Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube da Simone Pasqua Siamo tutti tifosi della Lega Pro, tutti tifosi rosso-verdi in attesa Per quello che riguarda l'assemblea del 4 maggio Per quello che riguarda la probabile ripartenza del calcio Si parla di un blocco delle classifiche di 4 promozioni in serie B E si parla di decidere la quarta a sorteggio O se è copponderato c'è questa minima differenza Senza fare play-off o comunque farli tramite sempre sorteggio Bisognerà aspettare, insomma ci sono tante decisioni da prendere Si capirà, penso i primi di maggio sapremo tutto Nel frattempo va avanti Stefano Bandecchi con l'associazione Derni nel cuore E si è fatto avanti, come ho detto ieri sera, al centro coordinamento del Nana Cleps Per proporre la cittadinanza onoraria di Terni proprio a Bandecchi E penso che, come ho già detto ieri, penso che se lo merita ampiamente Per quanto riguarda la Lega Pro, ragazzi, c'è da aspettare Probabilmente a questo punto non si giocherà neanche la finale di Coppa Italia di Lega Pro Fra Juventus-Under-23 e la nostra Ternana Probabilmente si andrà, secondo me, verso un blocco del campionato E vedremo se faranno disputare almeno il play-off O la quarta la decideranno, veramente a sorteggio